Se si crea un account connesso a Microsoft per accedere a Windows 10, è possibile cambiare la password o gestire l'account utilizzando un altro dispositivo in qualsiasi momento. In Windows 10, accedere con un account da amministratore. Selezionare il pulsante Avvia, quindi selezionare Impostazioni. Selezionare Account. Selezionare Famiglia e altri utenti, Famiglia e altre persone, o Altre persone. Selezionare Aggiungi un altro utente a questo PC. Se l'indirizzo di posta elettronica di un nuovo utente è connesso a un account Microsoft, immettere l'indirizzo e-mail nel campo Testo, quindi selezionare Avanti. Se l'indirizzo di posta elettronica non è connesso a un account Microsoft, selezionare Registra un nuovo indirizzo. Inserire le informazioni richieste per l'account Microsoft, quindi selezionare Avanti. Rispondere alle diverse domande per completare la creazione del nuovo account, compresi eventuali dati per l'identificazione dell'identità. Uscire dall'account amministratore. Nell'elenco degli account disponibili, il nuovo utente viene visualizzato con l'indirizzo e-mail associato. Accedere all'account con la password utilizzata durante la creazione dell'account. Grazie. 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 Grazie.